La Procura Europea ha richiesto la sospensione dell'immunità per due eurodeputate greche, la socialista Eva Kaili e Maria Spirachi del Partito Popolare Europeo. Sono sospettate di frode al bilancio comunitario per la gestione delle indennità parlamentari e le retribuzioni ai propri assistenti, sulla base di un rapporto investigativo redatto dall'Ufficio Europeo per la lotta antifrode. La Procura Europea non conferma né smentisce legami con lo scandalo di corruzione che ha colpito il Parlamento e che pure coinvolge la stessa Kaili, al momento in carcere e rimossa dalla vicepresidenza. Spirachi invece, contattata da Euronews, ha negato ogni addebito.